L'attuale presidente degli stati in Unita America, Joe Biden, è caduto in bicicletta. L'uomo di 79 anni d'età è caduto mentre stava iniziando un giro a Renault Beach, ci troviamo nel Delaware, negli stati in Unita America, in compagnia di altre persone, tra cui anche la moglie di nome Jill. Si è rialzato per fortuna, l'uomo in questione sta bene, non ha avuto problemi di salute, i reporter erano presenti in luogo, l'ho intervistato e proprio bene ha detto sto bene, state tranquilli, il presidente ha fatto sapere che ha avuto dei piccoli problemi nel togliere le scarpe da petali agganciati con delle clip che erano stati inseriti poco prima, a livello temporale. Bene, vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi agli esimi utenti di Youtube, iscrivetevi al mio canale di Youtube, narratore italiano, commentate, questo video ovviamente non vuoi eredere la parola di Joe Biden e anche le altre persone, ma solo informare eventuali esseri umani. Un saluto ne caro a voi e al prossimo video.